Grazie a tutti. Sono Silvia Terquini della Cineteca Nazionale e oggi sostituisco i miei colleghi Domenico Monetti e Luca Palla anche nella programmazione per aprire con questo incontro questa importante retrospettiva che la Cineteca ha dedicato a Raffa Allone nel centenario della nascita. Sono sei giornate, quindi molto molto fitta, che ci permetteranno di vedere titoli importantissimi. E nell'incontro abbiamo Salenio Mallone, come qui, del Francescaiello, Lino Capolicchio, al quale anche abbiamo dedicato la visione, e anche la mia figlia della retrospettiva, Laura Dell'Icolli, ormai nostra fedelissima sostentrice e collaboratrice, e anche Italo Moscavi, che è un filastro, diciamo, delle nostre disabilizioni. Non devo dimenticare il signor Rocco Familiari, e lascio la parola a Italo che vi introduriamo. Grazie Silvia. Tanto sono contento che siate così numerosi per ricordare questo grande attore italiano, Raffa Ballone, anche se di recente c'è stata una serata a Casa del Cinema, e quindi vedo che i figli continuano a farcelo presente, ed è una cosa molto bella, anche perché coincide con un bisogno che io sento sempre più potente. Non dico che il cinema di oggi ci deluda, no, perché ci sono dei film belli anche oggi, ma sento che forse c'è il bisogno di qualcosa di un po' più profondo. Non vi spaventate. Profondo significa così come lo è nel cinema italiano, come lo è stato, qualcosa che non assomiglia al ritmo di superficie, e invece ha un grande rapporto con il ritmo interiore, cioè il montaggio del cinema, che non è solo quello di incollare la pellicola, ma quello di mettere insieme un racconto cinematografico, con tutte le tappe, soggetto, trattamento, sceneggiature e via discorrendo, ha bisogno di qualcosa che sia nella pellicola come una specie di coscienza, che rifletta il pensiero degli autori, e quindi non può assoggettarsi a un ritmo esteriore, superficiale, imposto dalla televisione o da un cinema colossale americano, che ha tutto il diritto di farlo, ma il cinema italiano, anche quando era popolare, popolarissimo, comico, drammatico, ha sempre avuto un'attenzione per un ritmo che non veniva dall'esterno, veniva dalla scelta degli autori. Ora, a parlare di Ravallone, che è veramente un personaggio centrale del cinema italiano, ma anche nella vita, questo ragazzo calabrese, che poi diventa giornalista, calciatore, ha fatto anche un film sul calcio, e poi questo volto, che secondo me è insieme a quello delle maggiorate, è un volto maggiorato per bellezza e simpatia. Chiaramente sono tanti i film, tantissimi, però credo che lui abbia avuto, rispetto ad altri, una presenza dovuta, come dire, a un fatto antropologico. Lui ha fatto i primi film dopo la Seconda Guerra Mondiale, nei primi anni 50, la guerra era ancora vicina, come erano gli attori, i maschi del cinema italiano, tranne Vittorio De Sica, erano tutti personaggi molto impettiti, Roldano Lupi, per esempio, che sono personaggi che sono rimasti nella storia, poi sono finiti in televisione nei primi sceneggiati, uomini con la divisa, io direi, anche se non la portavano, perché così andava il concetto di maschio. E dovevano essere maschi, e dovevano però in qualche modo essere impettiti, e non avevano volti, come dire, di simpatia formidabile, così come ha avuto Raffa, che ha avuto anche la fortuna di trovare e di sposare una donna che aveva un'altrettanta qualità, diciamo così, tra virgolette, antropologica. Com'erano belli questi italiani, ma erano proprio belli, belli perché erano loro, le loro facce della loro terra, e anche se andavano a Torino, e quindi diventavano, come dire, immigrati interni, nessuno ancora ha scritto la storia dell'immigrazione interna. Questo paese che, con solo 150 anni di unità, ha fatto, soprattutto dal novecento in poi, una trasformazione sociologica incredibile. Allora quando, io non la tengo in lungo, perché voglio invece sentir parlare alle persone che sono qui presenti, e ringrazio. Quando arriva qualche scena, e la voglio citare, perché è un film che conoscete fino allo struggimento, ma Raffa Vallone e la moglie, che vanno emigranti verso il nord, dopo la canzone, vitti una crozza, si perdono, dopodiché succedono queste soluzioni melodrammatiche italiane, che le guardie di frontiera si commuovono, e loro vanno avanti. Ma se non ci fosse stata questa presenza di facce, che esprimevano senza neanche quasi bisogno di parlare, lo struggimento di abbandonare la terra, di andare in cerca di una dimensione sconosciuta, per bisogno. Beh, voglio dire, noi abbiamo avuto dei registi, e degli attori che hanno raccontato l'Italia, fin alla fine degli anni Sessanta, e anche parte degli anni Settanta, che erano formidabili. Forse il cinema oggi nostro patisce un po', perché non si sa dove aggrapparsi. Le facce sono di platino, e a volte sono umide, unte, qualcosa che passa e non resta. Allora, questo ringraziamento che voglio fare a Raffa, ho avuto modo di conoscere personalmente, anche delle sue insoddisfazioni, perché era anche un uomo che aveva successo, ma voleva sempre fare, aveva bisogno sempre di scommesse, nel cinema, nel teatro, e quindi erano uno di quegli italiani che mi piacciono. Uso questa parola, perché poi non lo dice più nessuno, ma gli italiani che mi piacciono, che riescono ad avere successo, non per raccomandazioni, non perché sono prodotti di una certa epoca, e non si sono preparati, non abbiano cultura. Lui addirittura ha retto le pagine culturali dell'Unità di Torino, che in Torino non si era, capita una pagina dell'Unità se non si era colti e bravi. Quindi, io propongo un applauso a Raffa Fallone, e poi sentiamo gli amici. C'è una signora che io amo moltissimo qui accanto a me, e quindi qui in mezzo a tutti questi maschiacci che non sono belli come Raffa Fallone, che vengono magari ad annoiarvi, voglio darvi la parola, perché, come dire, mi sembra che sia più giusto, lei che è già un giornalista, ma non sono una giornalista, scrive dei libri di cucina fantastici, e è una persona, secondo me, beh sì, ormai sono diventati loro i divi, hanno preso il post in televisione e tutti i possibili siti, e quindi, niente, vorrei che tu dicessi, i film sono tanti, scegli tu il tema, il film, l'emozione che puoi esprimere. Vorrei non dire le solite cose che mi capita di dire quando mi è capitato più di una volta di dire a proposito di Raffa Fallone, ma è difficile non ripetersi, perché di Raffa Fallone, ecco, mi piacerebbe, visto che mi hai fatto questa presentazione fantastica, e allora vorrei parlarne da donna, anzi, forse da femmina, posso, possiamo, che dite? È una femmina, sì, no, perché mi sembra, mi sembra che è un dato fondamentale nell'impatto, visto che Italo Moscati ha fatto un discorso giustamente da critico, da saggista, insomma, ha inquadrato meravigliosamente una figura, nel suo tempo e non solo, ma soprattutto nell'umore di quel tempo. Ecco, io invece vorrei dirvi, guardate per esempio questa foto, ma insomma, è una foto qualsiasi, scelta molto bene, che fa parte di un'altra serata che c'è stata prima di questa, ma perché poi festeggiare in qualche modo un compleanno, come questi cent'anni, insomma, si può andare avanti, non per altri cento, ma sicuramente per un centinaio di giorni va bene, lo dico perché poi ci sono qui anche le ragazze Vallone, che giustamente sono, come dire, l'altra metà di un cielo familiare che mi sembra, mi sembra importante, comunque, abbia raccolto questa voglia di ricordare Raff Vallone, di cui da anni parlo con Saverio, tra l'altro, perché magari ci capita, mi è capitato di più di incontrarlo e quindi so quanto, insomma, negli anni avete aspettato anche il momento giusto per cominciare, a ricominciare a parlarne. No, ho detto ne voglio parlare da donna perché a me guardare questa faccia mi fa venire in mente intanto che se lo incontrassimo anche oggi un uomo così penso che farebbe girare la testa a parecchie donne e di più generazioni. Perché? Perché la straordinaria forza anche di impatto di un uomo così è difficile da incontrare anche dopo nella bellezza tradizionale anche di un maschio e di un attore italiano. I protagonisti del neorealismo sono attori che sicuramente hanno lasciato un segno importante a parte gli impettiti che fanno parte di un altro potere. Però, insomma, nel girone del neorealismo se posso dirla così sicuramente ci sono state delle facce interessanti attori che sono cresciuti ma questa commistione tra la forza sanguigna di un temperamento e anche invece una bellezza molto raffinata credo che sia un po' difficile da ritrovare negli anni. Tra l'altro proprio in quest'icona che lui rappresenta inimitabile c'è una modernità assoluta cioè prendete un attore così oggi e mettetelo dentro un film italiano magari di quelli belli non in una commedia qualsiasi oppure in un film d'autore in un'opera prima un po' debole ma insomma ancora un protagonismo di questo genere credo che farebbe farebbe salire anche un po' gli spettatori al botteghino e forse anche le spettatrici. Detto questo in maniera un po' frivola chiaramente questo era un pretesto per alleggerire un po' anche un discorso che non deve essere solo critico perché credo che Raffallone poi per lo meno se ne parliamo noi da giornalisti ha appunto un valore aggiunto che esprime oltre alla qualità fortissima della sua recitazione del suo modo di essere attore insomma viene da un giornalismo militante viene da uno sport che ha fatto una grandissima simpatia intorno a lui e che non a caso è stato anche forse la molla che poi è scattata anche per certi ruoli nel cinema ruoli sempre molto molto forti molto sanguigni in cui si vede che c'è quasi un training che viene da un'altra storia ecco lì non è neorealismo e basta lì c'è l'intuizione appunto del regista che capisce che può essere uno straordinario protagonista e poi casualmente tutto avviene in un lancio che è proprio nella direi nell'arco di un anno o due anni che sono i primi straordinariamente importanti nella sua storia guardare questi titoli si rimane a bocca aperta perché veramente ci sono una quantità di anche perfino nei film e negli sceneggiati televisivi che non sono solo italiani ma sono internazionali che cosa vai a scoprire scopri che lui ha avuto intanto delle partner per esempio sempre molto importanti insomma attrici straordinarie ma che ha attraversato veramente in maniera molto trasversale anche il cinema d'autore ma quel cinema d'autore che era impegnato insieme popolare e questa credo che sia anche così la matrice più importante che lo ha legato a un grande successo dicevo un inizio fulminante perché poi pensare di essere nelle mani anche di registri come De Santis come Zampa come Germi ma tutto appunto nel 50 quindi malaparte poi ma insomma in un anno d'oro veramente per la sua per l'esplosione di questo debutto mi sembra una cosa importantissima e poi devo dire che l'altra come dire matrice importantissima è il teatro perché il teatro dà veramente una forza anche al personaggio e una tecnica che non è solo quella accademica ma mette un po' di pepe in più diciamo e in una già in un quadro importante e in un mix di fattori che sono poi la ragione di un successo immediato poi vorrei chiudere dicendo appunto visto che ho detto ne parlo da donna c'è una cosa che mi piace ripetere perché devo dire che è una delle più belle cose adesso hai capito di che voglio parlare perché quando io ho letto questo racconto di Elena Varzi che dice come si è innamorata di lui sul set lasciatemi dire una cosa che sembra apparentemente rosa ma che è meravigliosa lei guardò la sua nuca e racconta appunto di essersi innamorata di quest'uomo anche solo guardando così quel frame di spalle che potrebbe essere un primissimo piano meraviglioso di nuovo che aveva una faccia straordinaria ma che evidentemente aveva una tale anche non so forse un magnetismo particolare per cui questa bellezza così particolare in fondo è diventata un'attrazione immediata e questo certo ci incuriosisce molto perché un uomo così ci piacerebbe incontrarlo ancora oggi a proposito di Luca voi sapete che per esempio c'è stato un episodio nella vita di Charlie Chaplin che è fantastico non è più sul set si è appartato con la moglie giovanissima diciottenne figlia di Eugene O'Neill grande autore di teatro e si trovano per la prima volta in questa nuova casa in Svizzera dove praticamente andrà a vivere lui lei e la famiglia e c'è questa cosa bellissima di Charlie Chaplin cammina davanti a me di qualche metro e io barcollo perché la sto guardando nella nuca e mi domando la fortuna che ho avuto vedi che la nuca serve a noi veniamo da un cinema sensibile cinema di sensibilità oggi forse ci sono ma sono nascoste forse ci sono altre divise ma la cosa bella di di Raff è che al di là dei film che ha fatto anche all'estero è diventato un attore internazionale ma io l'ho goduto moltissimo quando in camicia rossa ha fatto Giuseppe Garibaldi insieme Anna Magnani durante la fuga di Roma è lei che sta male e quindi lui vestito appunto come il generale mi è rimasta nel cuore il risorgimento italiano raccontato no da Raff Vallone e da Anna Magnani due personaggi stupendi se uno vede anche nel segno di Venere che è una commedia c'è anche lì stupendo ci sono tante cose che fanno sì che questo attore mascalzone che negli altri film sì ma lui aveva anche la faccia mascalzone i calabresi ragazzi non scherzano anche se sono inurbati a Torino un po' di mascalzonaggini sono a porta presso mascalzonaggini che più come dire coordinata con quello che ha fatto e con le sue esperienze familiari eccetera non poteva che ha inserito una contraddizione quindi un uomo veramente tutto di un pezzo come si diceva come si usava una volta e poi le cose che dicevi mi fanno pensare che esiste un libro molto bello di un italiano che l'insegna la Sorbona che racconta della storia della bellezza delle donne e a un certo punto dice che il cinema è stato così importante quasi copiando quello che succede e che si può verificare nelle gallerie e cioè la macchina da presa che comincia dal volto poi scende sul seno poi scende ancora poi il corpo si gira e quindi e diceva appunto tutto questo la pittura anticipava il cinema allora io mi domando se sono state fatte queste storie della bellezza sulle donne parte di una storia che mi interessa moltissimo e che ho cercato di fare in un libro che si intitola Così amavano e così ameremo una storia dell'uomo del vivo del maschio non è mai stata scritta e penso che lo farò se ho capito bene a me tocca coprire il versante teatrale perché vedo che siete tutti esatto io ho conosciuto Raff nel 91 cercavo un attore per un dramma che avevo scritto forse la cosa più importante che ho scritto si chiamava Il circuito chiuso poi quando l'abbiamo messo in scena si è chiamato Il presidente perché questo cambio perché lo doveva fare in un primo tempo André Ruth Shammat e ogni volta che diceva circuito chiuso diceva corto circuito corto circuito perché a un certo punto si è arrabbiata dice ma che diavolo di titolo questo si chiama Il presidente e così lo battezzò Il presidente e quando poi lo facevamo con ballone era il titolo adatto il regista era Zanussi perché era un testo è un testo interattivo cioè è un testo sul potere della televisione ancora oggi forse sarebbe di estrema attualità il protagonista è un magnate dell'informazione che trasforma cioè le sue televisioni mandano in onda la realtà come vuole lui che sia a un certo punto viene convinto che così lui è quasi morto insomma è chiuso in un palazzo tra l'altro è un personaggio che sta su una sedia a rotelle devo dire che fu uno dei motivi per cui Raff lo accettò immediatamente perché in quel periodo aveva qualche problema con una gamba per un residuo di un incidente mi raccontò uno dei primi film che girò non c'erano le controfigure doveva lanciarsi in un torrentello e lui chiese c'è l'acqua dice sì lui si lanciò l'acqua non c'era c'erano le pietre per cui si si rilussò una caviglia siccome dice il film non si poteva fermare perché altrimenti la produzione sarebbe fallita quindi lui ha continuato a girare con una caviglia e questo poi diciamo a una certa età gli ha creato qualche problema dicevo questo magnate dell'informazione viene convinto a presentarsi alle elezioni mondiali che è convinto di vincere la verità è che è un inganno cioè lui è convinto di fare la campagna elettorale attraverso i mezzi televisivi di vincere le elezioni ma tutto si svolge in circuito chiuso ecco era questa la ragione del titolo il produttore mi disse di andare a parlare con Raff che stava facendo Orniflo in quel periodo lui fu gentilissimo lesse il testo il giorno dopo mi chiamò dandomi subito del tu perché il testo gli era piaciuto moltissimo quindi io ero diventato Rocco amico suo e bisognava fare questo testo i tre mesi che seguirono furono forse fra i più belli della mia vita di teatrante nel senso che tutti i fine settimana andavo a Sperlonga dove mi veniva a prendere lui alla stazione qualche volta accompagnato da Saverio e passavamo una giornata intera a rivedere il testo racconto questo perché è emblematico di come un attore un grande attore riesce poi a far fare a far diventare un testo una cosa sua il testo naturalmente il personaggio era un personaggio ambiguo un personaggio che aveva degli aspetti positivi era un idealista ma anche aspetti fortemente negativi era un mitomane uno che era convinto di voler dominare il mondo attraverso le televisioni lui mentre leggevamo il testo ogni tanto mi diceva potrei levare questa battuta e io gli dicevo non è il caso perché se no non si capisce e lui mi diceva va bene hai ragione un'altra battuta dice potrei levare e diceva sempre di sì poi hanno iniziato le prove io non sono mai andato a vedere le prove non lo faccio mai per cui andai mi chiamò Zanussi diciamo quando il testo era quasi pronto per andare in scena e mi accorsi che tutte le battute che io gli avevo detto che lui mi aveva detto che non avrebbe tolto le aveva tranquillamente eliminate naturalmente dal mio punto di vista di autore era un po' sbilanciato infatti disse a Zanussi guarda che ho l'impressione che Raffa vada per conto suo Zanussi mi rispose in un modo molto pittoresco con quel suo italiano un po' approssimativo dice uomo di 80 anni è come bambino tutto quello che fa è vero dico sarà vero ma è la sua verità comunque andammo in scena lo spettacolo ebbe un grande successo di pubblico ci furono tra l'altro rimase in scena moltissimo oggi teniture di questo genere credo che abbiamo fatto 200 repliche non hanno una cosa mi telefonava la mattina da certi posti sperduti perché poi voi pensate un uomo di 80 anni che ha fatto 200 debutti perché in Italia è famosa perché non si fanno le teniture lunghe mi telefonava dice sai ieri sera mi hanno portato in trionfo cioè per lui è stato veramente una grande gioia la critica si spaccò su questo testo la metà lo sannò come un testo geniale l'altra metà arrivò anche agli insulti poi ho avuto due recensioni come dire alla memoria nel senso che due anni dopo quando Berlusconi scese in campo Masolino D'Amico e Rita Cirio fecero due recensioni postume dicendo che il testo era stato profetico poco fa quando lei parlava delle fotografie mi ha fatto ricordare forse l'episodio più struggente di questa avventura perché la cosa bella era che in questo suo lavoro Elena lo assisteva quotidianamente nel senso che lui il testo era un testo molto lungo cioè il personaggio alcune cose venivano registrate appunto perché era un testo interattivo quindi lui registrava però molte parti erano a memoria quindi lui con una costanza una tenacia tutti i giorni ripeteva il testo a Elena che lo ha ascoltato per 30 giorni di prove poi per le 200 repliche tutte le sere prima della rappresentazione lui lo ripeteva a Elena che poi si sedeva in teatro e ha assistito a tutte le repliche e c'era un momento in cui si scioglieva in lacrime ed era quando il presidente vince o è convinto di vincere le elezioni e Zemunsi aveva usato per fare il profilo biografico del presidente una serie di foto di raffa varietà quindi raffa bambino raffa adolescente raffa quando arrivava questa scena Elena da sola in prima fila che piangeva era veramente una cosa che inteneriva un'altra cosa che mi viene in mente è il fatto che lui appunto nel costruirsi questo personaggio ogni tanto mi telefonava e mi chiedeva di scrivergli qualche altra cosa ora voi sapete che agli autori viene chiesto sempre di tagliare mai di aggiungere quindi a uno scrittore gli dice di aggiungere lo invitate a nozze quindi mi chiese un pezzo sui libri mi ricordo noi siamo della generazione dei libri oggi forse queste cose scrissi un pezzo appunto sull'odore dei libri che in molti libri non c'è bisogno di leggerli dall'odore uno capisce se vanno bene o no dice quanti libri non ho letto semplicemente odorandoli poi mi scrive un altro pezzo sui ricordi comunque diciamo che fu un testo costruito sul suo personaggio e fu un'avventura bellissima lui ebbe il rimpianto che il testo lo voleva riprendere naturalmente avevamo esaurito le piazze italiane rimane un testo ritengo fortemente attuale perché se ripenso ai personaggi c'è un personaggio che è quello che crea tutto questo apparato tecnologico che serve a manipolare le informazioni poi fu fatto in Polonia il testo fu tradotto in polacco e Zanussi lo fece per la televisione polacca con Jersey Trela che era un grande attore però molto diverso dal raff dal mio punto di vista fu un'esperienza molto gratificante e particolare nel senso che con gli attori non l'ho fatto mai l'ho fatto con i registi di mettere a posto in testo l'ultimo è andato in scena Naspoleto Ameleto Prova Ameleto con Missiroli anche lì si chiamava Ameleto Prova Ameleto dopo che lo abbiamo letto e riletto con Missiroli fu battezzato Ameleto in prova quindi aveva 35 personaggi inizialmente alla fine erano 7 ecco queste trasformazioni avvengono con Raff invece fu proprio una costruzione di un abito un ricordo personale di questi giorni ho ritrovato Raff in questi giorni perché mi sto occupando sto scrivendo un saggio sul Wojciech e facendo ricerche ho scoperto che uno dei primi ruoli in teatro interpretati da Raff è stato un Wojciech a Torino quando era col teatro studentesco quindi questo per me è stato come dire un saluto proprio di questi giorni vi ringrazio grazie Raff vorrei anche ricordare che per esempio Raff ha anche interpretato il ruolo di Stalin di un testo di un italo-cileno insomma lui credo che facesse anche il regista per quello spettacolo ed è siccome io conoscevo l'autore mi raccontava un po' della complessità del rapporto perché era appunto Raff era molto attento anche la questione ideologica no di Stalin come parlarne eccetera mi diceva appunto che era un attore che come faceva lui chiedeva di aggiungere credo non di togliere forse per correggere ma come dicevo appunto siamo nel teatro e qui c'è un attore che non è solo di teatro ma che è anche del cinema però teatro io lo ricordo parla di quello che vuoi ma parla di Raff non di te non di te intanto mi dava del lei cosa sì cosa molto curiosa perché era un ragazzino di 23 anni quindi insomma il fatto che mi desse del lei mi incuriosiva ma la cosa che mi ricordo sostanzialmente di lui è la fisicità impressionante Raff aveva proprio non era altissimo ma aveva un fisico non so mi faceva impressione poi la straordinaria cultura cioè era un uomo gli attori in genere non sono molto colti lo devo dire lo devo dire assolutamente perché nella mia carriera ne ho conosciuti un'infinità e in genere sono insomma culturalmente modesti invece Raff era una persona colta e anche questo mi faceva impressione poi lui mi parlava molto di Pavese io ero fanatico di Pavese quindi il fatto che lui lavorasse avesse lavorato scrivendo conoscendo Pavese ma scrivendo molto su Pavese insomma la cosa mi lo guardavo come si guarda qualcuno che in realtà non esiste cioè come una specie di icona che sta lì in alto e lui mi diceva ma lo sa che lei si dovrà tingere di biondo immagino perché il personaggio nel testo è biondo ma lei non sa che cosa l'aspetta cioè perché la faremo proprio biondo 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 ossigenato ha detto va bene sopporterò cosa vuole che le dica e in effetti mi fecero biondissimo e e io dissi a Raff ma non sarò un po' troppo biondo dice no non si preoccupi non la prenderanno per un uomo sessuale ma non lo so io ho detto ma non lo so ma che qua tutto è possibile stia tranquillo in ogni caso lei avrà successo lui mi faceva mettere un cappello che mi copriva la capigliatura e quando io entravo in scena con il cappello e a un certo punto me lo toglievo su una battuta e c'era una specie di urlo sommesso delle ragazzine che naturalmente poi alla fine dello spettacolo invadevano il mio camerino dov'è il biondino dov'è il biondino c'era un assalto all'arma bianca e alla fine dello spettacolo non mi trovavo il berretto gli guanti la sciarpa mi rubavano tutto e lui ha detto ha visto cosa le avevo detto il biondo funziona era una persona naturalmente molto esigente tra l'altro lui di quello spettacolo era non solo l'interprete protagonista ma era anche il regista dello spettacolo quindi era molto esigente però era una persona che insomma se in scena quella sera funzionavi particolarmente bene lui te lo diceva ah mi è piaciuto mi ha detto molto bene questa sera quella battuta lì veramente io dicevo grazie grazie Vallone grazie grazie lei è molto cortese no non sono cortese dico quello che penso quando ho fatto il mio primo film che si chiamava Escalation lui mi telefonò mi telefonò e mi disse lei nel film è molto bravo e come vede a scritturarla non mi sono sbagliato su di lei era anche generoso cioè era uno che oggi un attore che dice un altro attore soprattutto una persona più grande dice un altro attore gli fa i complimenti non esiste proprio non esiste non c'è non mi è più capitato ma invece lui sì perché i grandi non hanno non hanno questo tipo di invidie perché se sei tu allora la gente se sei bello lo sopportano se sei bello e somaro lo sopportano se sei bravo e brutto lo sopportano ma se sei bello e bravo non lo sopportano assolutamente è sempre successo tutte le sere che ti ha detto va bene oppure c'è stata una sera che ha fatto un mutismo e tu ti sei preoccupato quando feci il mio primo sceneggiato televisivo un attore mi affrontò un attore che poi non ha fatto carriera mi affrontò e mi disse ma tu chi sei in un certo senso lui aveva ragione e io gli dissi guarda che io ho lavorato con Streller nel senso che Streller mi ha visto recitare e mi ha voluto al piccolo teatro quindi non so vedi tu e lui mi disse secondo me te la sei inventata questo per dire l'ambientino io sono qui io sono onorata di esserlo perché voglio bene a Leonora e a Saverio fin da tanti da tanti anni io ho avuto solo un'occasione una volta la fortuna di conoscere Raffallone perché siamo andati con mia figlia ad Assisi c'era una grande manifestazione con dei luminari e mi ricordo che in quei tre giorni io sono sempre stata accanto a questo signore ero affascinata la sua bellezza la sua classe la sua signorilità aveva dei momenti anche di dolcezza e mi ricordo che ogni tanto mi accarezzava la nuca a proposito di nuca mi accarezzava la nuca sì e quindi ed ero felice perché ero vicino a questo fantastico uomo e quindi e poi lo guardavo ero incantata e allora gli dissi se mi permettete che io avevo cenato una sera senza capire niente di quello che diceva con Artur Miller perché io andai a New York e venne a trovare Walter Chiari che stava facendo uno spettacolo il pazzo e lui mi chiese io ho detto non so niente so che toccavo sempre Artur Miller ma non ho capito di quello che dicesse perché non capivo la lingua e quindi ecco io ho ben poco da dire soltanto che sono felice di essere qui tra voi grandi tutti e e ho questo ricordo appunto di queste carezze sulla nuca e una volta mi disse prima di lasciare questo questo evento mi ha detto vieni a trovare mia moglie perché tu piacerai molto a mia moglie era mamma quindi io l'avevo promesso però poi non so per quale ragione non mi è stato possibile e questo mi dispiace molto perché era una donna meravigliosa tra l'altro tutti belli eravate in famiglia e lo siete avete continuato questa generazione meravigliosa sì sono tanti i film che ha fatto io ne voglio citare uno perché è così poco conosciuto ed è di un grande scrittore il Cristo proibito di Curzio Malaparte ed è un veramente è un film che quando vidi a suo tempo che era praticamente scarsamente proiettato feci subito un cortocircuito tra il Calabrese inurbato a Torino e Curzio Malaparte che scende a Napoli e scrive la pelle perché io ho una convinzione che la cultura italiana soprattutto diciamo nel secolo scorso ha avuto una grande risorsa nelle zone limitrofe del paese nella provincia nelle regioni le più lontane e questa cosa che uno scrittore di Prato come Curzio Malaparte figlio seppure di un tedesco e di una pratese riuscisse a fare dei libri sulla società italiana come La Pelle che secondo me è un capolavoro o Caput sulla seconda guerra mondiale e avesse scelto come attore un attore come Raffa Vallone con la sua fisicità con la sua italianità ma soprattutto con questa espressione in un film che non ebbe successo ma che è rivisto a delle qualità secondo me notevoli e poi andando a spulciare ce n'è un'infinità Roma ore 11 per esempio si torna al neorealismo ma poi al cardinale a caso di Otto Preminger cioè lui ha fatto veramente un cinema a tutti i livelli e mi domando quanto è stato possibile questo grazie a un cinema che esisteva ed è passato attraverso la Hollywood sul Tevere la Hollywood sul Tevere che è cominciata nel 51 con Quovadis e si presentarono a Cinecittà per entrare e fare ricomparsi sia Sofia Loren che udite udite Pierpaolo Pagiolini è una cosa che non viene mai detta ma era qualcosa che ha dato un polmone di respiro al cinema italiano che aveva anche bravi registi anche bravi tecnici e degli studi è stata una stagione importantissima dietro la quale c'era certamente come in tutte le cose che fanno gli americani la mano felpata di conquista di un mercato che poteva offrirti mano d'opera e studi a basso costo ma anche talentuosi tecnici scenografi e costumisti queste persone hanno vissuto un'epoca fortunata e quindi sono curioso adesso di passare invece la parola a un giovane produttore che è stato anche attore non per stanarlo e fare il confronto tra oggi e la situazione di allora perché tanto è una situazione talmente forte che comunque sia non c'è neanche bisogno di sminuirla e né tanto possiamo gonfiare i muscoli perché oggi il cinema è quello che è però volevo sentire te che sei un giovane produttore con un attore come Raffalloni il tuo rapporto che cos'è oggi produrre un film dopo che tu hai fatto anche l'attore soprattutto ci aggiungo una cosa 1951 Quovadis ma oggi Quovado quindi è cambiato un po' il quadro è cambiato un po' Andovado beh grazie grazie del giovane perché insomma in realtà no ma si vede che sei i capelli bianchi era un comprimento così comunque no sono felice che questa sera si proietta adesso questo film diciamo che ho prodotto ho coprodotto insieme a un produttore francese perché diciamo questa rassegna ampia di film sicuramente straordinari è un onore per me insomma essere qua grazie anche a Saverio e Leonora che insomma ci hanno tenuto molto sempre a questo film di ricordarmelo e io sono molto felice di averlo fatto questo film la regista di questo film è calabrese e ha avuto sempre l'idea fissa di volere Raffallone e inoltre anche io sono calabrese quindi sei unita questa cosa un po' di calabresi la regista è una sì una regista vive a Parigi io mi ricordo francese Filomen comunque io mi ricordo questa cosa appunto di Raffallone che io sono stato sul set poco in realtà perché il film si girava più in Francia che non in Italia c'era quindi il produttore francese che seguiva più le riprese però quando sono andato un giorno c'era questa presenza straordinaria di Raffallone e c'era questo set che era completamente catturato da questo attore straordinario e mi ricordo che giravamo in una in una soffitta quasi una scena e Raff in quel momento non stava tanto bene diciamo un po' le gambe non si muoveva benissimo e quindi ha avuto molta difficoltà anche a salire queste scale quindi è stato aiutato un pochettino e io insomma appunto sono stato anche un pochettino attore e capisco che in casi del genere diciamo esce fuori una rabbia un po' invece lui era di una serenità di una tranquillità straordinaria e aveva questo pubblico che era la truppa che era completamente in estasi su di lui quindi io sono contentissimo di aver fatto questo film che poi c'è anche il protagonista Alessandro Gassman c'è anche la presenza di un musicista che ha vinto anche l'Oscar poi ottimamente che per Budapest Hotel che è Alexandre Desplat ha fatto anche reality ha fatto anche Danish Girl insomma ormai è diventato un musicista straordinario quindi ecco questa costruzione e questa produzione che rimane un po' nel tempo perché in realtà sono passati già 15 anni 16 anni perché del 1999 alla fine sia la presenza di Raffallone e che quindi siamo qui questa sera per questo film poi anche Alessandro Gassman che diciamo ha maturato anche di più e diventato insomma sempre più bravo in un certo senso e poi anche questo musicista mi fa piacere perché chiaramente poi per Raff mi sembra che sia stato l'ultimo film che poi lui purtroppo ha fatto poi c'è anche mamma sì c'è anche la signora Elena e la signora Elena era presente con Raffallone in maniera in adorazione era una coppia straordinaria a vedere perché poi lo aiutava in qualsiasi momento anche ecco sul set c'era anche questa presenza insomma per me è stata una bellissima esperienza è rimasta nel mio ricordo dal punto di vista produttivo posso dire che le cose sono sempre più difficili alla tua domanda insomma io vedo che c'è molta più si tende alla concentrazione di poli molto forti in Italia sì in editoria stiamo vedendo ma sicuramente nella produzione adesso anche gruppi che non so Zodiac che si è unita con un altro gruppo di Bassetti mi ricordo come si chiama Begino insomma c'è una concentrazione molto forte e per gli indipendenti è sempre più difficile e quindi questo secondo me è una lotta con questa nuova legge che sta facendo e tutto che sarebbe importante lavorare insomma perché il cinema indipendente secondo me è quello che poi dà la vitalità al cinema italiano ma io sono perfettamente d'accordo l'unica cosa che vorrei sottolineare perché è un tema vastissimo non so se è risolvibile è che forse abbiamo perso il treno quando si perde il mercato dopo rifare quello che era il cinema italiano che produceva 300 film l'anno come una volta e quindi adesso sono tutti film un po' stentati fanno fatica c'è qualcosa di buono ma quando si dimentica il mercato la televisione prevale è qualcosa di un esercizio quasi insomma proibitivo però insomma quindi i produttori incontrano le loro difficoltà ma credo che dietro di tutto c'è anche un abbandono della politica nel senso che è sempre stato portato come un fiore all'occhiello e lo vediamo come corrono i presidenti del consiglio i ministeri del spettacolo quando c'è anche un piccolo premio vanno ammollano tutto e quindi anche questo è un altro segno cinema come una specie di medaglia che si mette ma che però questi personaggi molto spesso non si meritano ma siccome il tempo è passato e penso che sarebbe il caso di dare come dire la parola e il volto all'alfa ballone volevo concludere con Saverio che è stato così cortese a invitarvi così come anche le sorelle sono sempre state così gentili con me di ricordarmi e Rafa mi sono affezionato a loro è una famiglia adorabile Elena che ho conosciuto poco credo che sia stata una donna straordinaria e quindi mi fa piacere darti la parola Saverio per un ultimo pensiero e intanto vi ringrazio di essere venuti così numerosi grazie sono molto contento di aver organizzato questa rassegna cinematografica con la Cineteca nazionale volevo ringraziare Domenico Monetti abbiamo fatto una scelta di 15 film di papà diciamo vari e quindi di varia natura dal cinema neorealista a quello anche un po' come il bivio come la morte risale ieri sera ad esempio e quindi far vedere la straordinaria capacità di un attore così poliedrico questo suo grande segreto è sempre stato il lavoro insomma perché lavoro lavoro e poi lavoro insomma quindi questa continua ricerca questa grandissima curiosità di entrare in qualsiasi personaggio anche di natura completamente diversa insomma e quindi questa è stata per lui qualsiasi cosa che faceva che sceglieva oggi noi non è che abbiamo tanta possibilità di scegliere come attore insomma lui invece sceglieva perché aveva 3.000 proposte e faceva quello che lui preferiva fare cioè le scelte cinematografiche a quelle teatrali e quindi cercava di rincorrere di studiare il personaggio e dal mattino dall'alba no? era proprio un continuo come diceva anche Rocco familiare come diceva Lino Capolicchio e voi tutti insomma comunque c'era questo suo grandissimo impegno questa grandissima volontà questa forza ecco io come figlio la forza la forza di papà cioè non solo nel tiro che quando tirava faceva un gol era una fucilata insomma cioè chi stava in porta gli si spezzavano le mani si giocavano sempre a pallone ma mi ricordo quando faceva fatto gli eroi della domenica c'era Franco Interlenchi in porta no? e diceva Raff ma noi siamo attori io non sono un portiere un portiere vero cioè tira piano no? invece lui tirava delle fucilate così mastroianni anche e così quindi lui prendeva veramente per vero tutto e con lui devo dire insomma a parte insomma ho cercato di prendere al massimo ho avuto la fortuna di poter lavorare in cinque produzioni diverse di teatro ho fatto Desiderio Sotto gli Olmi Messia Ornifle Tommaso Moro La creazione del mondo e le altre cose quindi ho fatto molte tournée con lui e mi trovo perfettamente concorda con Lino perché di fatti lui diceva alla fine di tutte le prove diceva vabbè adesso sei bravo insomma hai studiato sei preparato c'è la prima non ti preoccupare anche qualsiasi sia l'esito di questo spettacolo comunque vada andremo a cena insieme insomma quindi e questo mi gratificava ringrazio veramente tutti voi ringrazio Italo ringrazio Lino ringrazio Laura Valeria Rocco e Pier Francesco che abbiamo scelto insieme di fare questo film che non è mai stato rappresentato in Italia mi sembra che sia uscito solo a Parigi no? sì esce il Rai sempre lo riedono ce lo fanno dicere sempre me lo richiedono sempre è che l'ultimo film è strano che lui abbia cominciato con Vittorio Gasman e poi l'ultimo film l'abbia fatto con Alessandro il figlio quindi probabilmente è anche un arco di tempo molto bello in cui c'è anche un cammeo dove c'è mamma insomma la rassegna finirà il 3 aprile ci sarà un'interruzione diciamo per i giorni di Pasqua proprio Pasqua e Pasquetta e poi dopo ci sarà un salto che finirà il 3 aprile che finirà con la Sciocciara e poi ci sarà anche il segno di Venere ci saranno c'è una bella bella scelta abbiamo fatto quindi sono molto contento e ringrazio voi tutti ringrazio anche le mie sorelle che hanno fatto questa serata alla Casa del Cinema proiettando uno sguardo dal ponte io ero a Novara perché stavo girando il film azzurro e azzurro waltzer di Vanni Vallino e quindi da lontano ho seguito e poi ho fatto personalmente ho fatto questa mostra fotografica permanente di Papà Tropea che ha un grandissimo successo ha molta affluenza e un premio cinematografico l'altro anno abbiamo fatto la prima edizione abbiamo dato il premio a dei giovani registi e a Greta Scarano un'attrice molto brava e quest'anno il 2 luglio riproporeremo la seconda edizione quindi è bello ricordare questa memoria così viva di un grandissimo attore come Raff Vallone grazie grazie tantissime Saverio grazie anche alle ragazze qui presenti e buona prego ho dimenticato di dire una cosa prima vi chiedo scusa e avevo il compito di dire che la versione del film che facciamo stasera di Tony è in francese c'è un motivo perché in questo modo sentirete la voce originale di Raffa Vallone mentre la versione italiana non avrebbe avuto la sua voce ci sono i sottotitoli italiani però è stata una scelta per valorizzare la sua voce e la sua pronuncia perfetta in francese grazie bene grazie arrivederci grazie 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 grazie